È stato un fine settimana pesante, lo abbiamo detto, per il maltempo, le bombe d'acqua, i colpi di vento, gli alberi sradicati, ma soprattutto anche per i blackout che si sono verificati nella zona di Castiglion-Fibocchi, anche di Castiglion-Fiorentino e nel comune di Arezzo. Tante famiglie, solo 500 a Castiglion-Fibocchi, sono rimaste per circa 12 ore, in alcuni casi anche per un giorno intero, senza luce e senza energia non si fa nulla. Sì, infatti, più di 500 famiglie a Castiglion-Fibocchi sono rimaste senza luce e senza acqua dalle 11 più o meno di sabato mattina, in alcune zone fino alle 22-23 del sabato sera e altre 253 famiglie fino a ieri mattina, quindi tutta la notte senza energia elettrica, fino a ieri mattina più o meno intorno alle 9. Questo ha creato disagi notevoli, senza poi entrare nel dettaglio, per le famiglie, per le attività commerciali. La gente ovviamente che cosa fa? In queste circostanze o chiama la nostra redazione, le redazioni dei media, oppure soprattutto chiama gli amministratori. Il sindaco Ermini ha già fatto un appello. Crediamo fortemente che una sorta di condivisione con gli altri sindaci della zona, per fare un appello comune alla società che gestisce l'energia elettrica, per fare rete e per far sì che i piccoli amministratori si facciano sentire, per avere un contatto diretto, un canale preferenziale, nell'ottica che possa risuccedere un episodio meteorologico grave, come quello di ieri, visto poi la stagione in cui stiamo entrando.